Due corpi che affiorano dal bayou, due come le anime di Lark. Una cittadina del Texas orientale dove bianchi e neri si scrutano da un lato all'altro della Highway 59. Dove la tavola calda di Geneva Suite, rifugio di anime perdute, si specchia nella villa immacolata dei Jefferson. Un ranger in lotta con i propri demoni viene chiamato per risolvere il caso complesso come questa terra. Perché tra le case a ridosso delle paludi, nulla è come sembra, nulla è davvero compiuto. Questa storia è un'armonia dissonante, un colpo di pistola, la lotta continua tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Questa storia è un blues, un Texas blues.